Quando vogliamo insieme si crea qualcosa di magico, è uno dei modi più grandi per amarci. Noi siamo Irene e Nicolò, siamo insieme dal 2009, abbiamo due figli, Angelo e Agnes, e siamo la famiglia danzante. Indossare le punte per strada crea una magia diversa per il contrasto netto che dà questo elemento artistico con l'asfalto. Ho cominciato a danzare ufficialmente a sei anni, ma già prima facevo i miei spettacolini in salotto con il mio papà che mi guardava. Per me danzare è venuta per caso, facevo piscina, la piscina chiuse, c'era questa piccola scuola di danza e da lì è iniziato un divertimento. Ci siamo conosciuti che avevamo 26 anni, un insegnante ci chiese di improvvisare. In quel momento ci siamo ritrovati come in un caschetto. Quando i tuoi occhi sono dentro gli occhi dell'altra persona, ed è lì che è successo qualcosa. Noi nasciamo come duo artistico. In breve tempo siamo diventati una famiglia. In entrambe le gravidanze ho ballato fino all'ultimo giorno praticamente. Il nostro figlio ci ha sempre accompagnato e ha cominciato a gazzonare intorno e poi a muovere automaticamente i suoi primi passi con noi. Tra più piccolina ha cominciato a camminare sulle mezze punte praticamente. Anche se balleremo noi due, noi balleremo come una famiglia, come la famiglia danzante. Grazie. 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 Grazie.